questo è il pollice il più grosso ed è il papa pollice pollice della nostra mano questo è l'indice la mamma delle dita indice indice della nostra mano questo è il medio che sta al centro ed è il fratello ecco il medio ecco il medio della nostra mano la sorella tutta verde l'anulare anulare anulare della nostra mano ecco il mignolo è il più piccolo e carino mignolo mignolo è la nostra mano giochiamo di nuovo con le dita pollice indice medio anulare e mignolo questa è la nostra mano qualcuno riesce a capire di che si tratta no guardate ci sono altri pezzi coloratissimi gioco giochetto montiamo anche questo questi pezzi formano un piccolo cerchio e questi un grande cerchio questi sono quattro piatti e quattro tazze su una pedana rotonda qualcuno ha già indovinato è una giostra le tazze del tè trasformate in sedili ma come farà a girare incastriamo questo anello leo ha portato quattro volanti e le parti mancanti delle tazze che saranno gli sportelli rosa verde rosso giallo ed ecco il motore con tutti gli ingranaggi è fatta amici andiamo che succede ci sono le tazze ma manca la teiera leo dobbiamo cercarla oh è vero mancano i seggiolini vanno appesi alle braccia della giostra leo hai trovato una soluzione? leo ci hai portato in discarica oh è vero e va bene oh oh un missile un aeroplano una macchina in nascontro e un'auto formula uno ma non sono marcianti li hanno buttati in discarica perché troppo vecchi ah sì sono sporchi ah lifty barattoli di vernice pennello rullo sì diamoci da fare sì robot lava la macchinina blu oh il missile tornerà come nuovo il robot rosso dipinge una macchina da corsa la macchina da corsa è pronta una vera formula uno un grosso camion trasporta tutti i veicoli verniciati alla giostra arrivati agganciamo i veicoli e riciclati autoscontro aereo razzo elicottero azioniamo questa meravigliosa giostra con parti riciclate buon divertimento questo sì che è volare vorremmo venire anche noi leo dove sei non ti vedo la teiera è così grande che leo ci si può nascondere lì dietro pesante andiamo eccola mettiamola al suo posto e partenza veloci veloci sempre più veloci sempre più veloci è uno spasso i robot sono super felici leo è meraviglioso i robot sono entusiasti anche l'escavatore vuole fare un giro la tazza verde libera sali max gira la giostra gira il mondo gira tutto il mondo leo alla prossima avventura ciao amici ciao 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 ciao